L'ex signora Cottone continua a pubblicare sui social network frizzanti post sul senso dell'amicizia e sull'importanza di avere qualcuno vicino nel momento del bisogno, eppure a quanto pare ha sbolognato senza troppi scrupoli la sua testimone di nozze. Ebbene, Maria Grazia Cucinotta, amica di Valeriona da anni e per questo una degli otto testimoni al sontuoso matrimonio che ormai è naufragato, avrebbe fatto infuriare Lamarini per via di un film. È il sito d'Agospia infatti a lanciare la rivelazione sulla fine della loro splendida amicizia a causa della produzione italo-cinese dal titolo C'è sempre un perché, con tra gli altri anche Sergio Assisi, Nini Bruschetta, Lucia Sardo e Luca Ward. La bionda Starlet avrebbe spinto per far parte del cast e una volta presa visione del materiale avrebbe dato un'escandescenza mandando all'aria il rapporto con la bella siciliana. Sul sito si legge, sta di fatto che quando Lamarini ha visionato il film ha sbottato, non si vedeva bella e inoltre il regista Dario Baldi aveva tagliato, secondo lei, molte delle scene in cui appariva. L'entourage della cucinotta dice che Valeria sapeva benissimo che la sua sarebbe stata una piccola partecipazione, ma lei non ha voluto sentire ragioni e si è talmente arrabbiata che ora una grande amicizia è finita.